Le regole della concorrenza. Ugo Capellacci. Io credo che la Sardegna abbia bisogno di un rapporto diverso, di un rapporto nuovo con il livello di governo nazionale ed europeo. Credo che sia necessario avere solidi ragionamenti, avere prospettiva, un rapporto di leale collaborazione. Non ci serve alimentare i conflitti, non ci serve alimentare le divisioni e tantomeno ci serve una classe dirigente isterica. Presidente. Sono d'accordo con Ugo Capellacci. Ha detto che non ci serve alimentare i conflitti, bisogna avere un rapporto di leale collaborazione. Per questo sono sorpreso e ammareggiato, vorrei dire scandalizzato, quando il Presidente del Consiglio viene per ben due volte in Sardegna e minaccia i sardi dicendo che state attenti a come votate, perché se votate per un certo candidato sarà impossibile collaborare. Se invece votate bene, allora sarà facile collaborare e lo Stato vi assicura il suo appoggio. Esattamente, sono d'accordo con lui. Bisogna avere dei rapporti leali tra istituzioni e non amicizie o pacchi sulle spalle, tantomeno le minacce di chi arriva in Sardegna. Per terminare ancora sulla Unione Europea, sono interessanti i ragionamenti che sono stati messi in campo. Io credo che sia dentro il percorso europeo la conquista da parte della Sardegna di spazi nuovi di autonomia e di sovranità. Dentro il percorso dell'Europa che guarda gli stati, ma sempre più alle regioni. Con questa Europa la Sardegna si sta confrontando bene, anzi molto bene. E ne sono prova del fatto che sono di fatto concluse tutte le discussioni per la costituzione di una euroregione delle isole del Mediterraneo che riguarda la Corsica, le Baleari, la Sardegna, Malta e Cipro, insieme alla Sicilia. E ne sono una prova importante il fatto che il sostanziale, l'importantissimo programma europeo di partenariato con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, l'Empi, finanziato per quasi 200 milioni di euro, veda come protagonista la Sardegna. Alla Sardegna è stata data la responsabilità dell'autorità di gestione di un programma che riguarda 17 paesi del Mediterraneo, 120 regioni della sponda sud del Mediterraneo. E' per questo in Sardegna oggi si lavora, arrivano persone, imprese, rappresentanti istituzionali di paesi che non avevamo mai ospitato. Ugo Capellacci vuole replicare poi l'ultimo messaggio agli altri tre candidati. Quel riconoscimento è un riconoscimento che verrà appreso dal Parlamento italiano, quindi vale ovviamente per chiunque ci sia al governo, non si può certamente dire, parlo della condizione di insularità, vale per chiunque sarà al governo. A livello europeo mi dispiace semplicemente che in questi cinque anni il Presidente della Regione abbia partecipato solo sette volte su 58 al Comitato delle Regioni. Io chiedo scusa... Un messaggio finale. Ciò che conta, il mio messaggio è questo, allora faccio questa replica. Sono gli stati attualmente protagonisti in Europa e nel mondo e se noi non saremmo stati e quindi non avremo questa personalità giuridica originaria non siamo messi sullo stesso piano e non saremmo sullo stesso piano. Ecco che per quanto possano prenderci in considerazione la Sardegna avrà con gli altri solo un potere consultivo. Avvocato Sale, Gavino Sale, veloce. Io sono profondamente deluso perché venendo in queste trasmissioni mi aspettavo di trovare dei rappresentanti della Sardegna che ragionessero da capo di Stato. Invece mi ritrovo con dei personaggi che ragionano semplicemente con dei normali candidati a Presidente della Regione. Necessita oggi quella Sardegna di mantenere quell'impulso che sta arrivando dalla società civile e che bisogna interpretare in quella direzione di raggiungimento di maggiore sovranità. Solo questo ci può permettere di entrare in Europa e nel mondo. Chiudiamo con Pepino Valia. Un voto di libertà, di coerenza, di autonomia per un partito che è coerente con le proprie idee, con le proprie azioni e con i propri programmi. Per l'unico partito di sinistra oggi in Sardegna. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie anche a Enrico Pilla dell'Unione Sarda e a Filippo Peretti della Nuova Sardegna. Appuntamento quindi al 15 e 16 di febbraio. Grazie a tutti.